Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e anche per la presentazione. L'obiettivo oggi per me che rappresento un gruppo come Decathlon non è tanto quello di entrare nella parte tecnica, la maggior parte delle relazioni fatte in precedenza sono fatte dalle aziende con cui lavoriamo abitualmente, quindi fondamentalmente l'obiettivo non è ripercorrere cose già viste e già dette, ma piuttosto dare una visione un po' diversa con un taglio più commerciale legato più all'utilizzatore finale. Noi parliamo tanto di tecnica all'interno del mondo universitario, però ci sono vari passaggi che poi portano a un successo meno commerciale di vari prodotti. L'obiettivo quindi di oggi per quanto mi riguarda è presentare un caso aziendale, un caso aziendale perché speravo che ci fossero uguali studenti in più, in effetti il professor Rosace mi aveva detto che ci sarebbero sempre tanti studenti, non ne vedo però, forse ce ne sono 3 o 4, per noi è impossibile, sono uno studente per me, quindi non ci stupisce, non ci sono. Probabilmente, ma non credo perché non c'è nessuno in giro. Comunque ricordiamo oggi dei costumi da bagno, perché? Perché in realtà è un prodotto relativamente semplice che si presta a tutta una serie di applicazioni. Che cos'è il mondo di costumi da bagno? Parlando del mercato, il mercato di costumi da bagno ci rappresenta a livello mondiale fatturato di circa 10 miliardi di euro, quindi a livello mondiale è un mercato molto interessante, rappresenta circa il 3% del mercato dello sport, quindi ha un livello di interesse molto elevato. In particolare, i clienti principali del costumi da bagno sono le donne che utilizzano il tempo libero. Il tempo libero vuol dire principalmente utilizzo nel mondo della spiaggia. Diciamo, tutto quello che è il costumi da bagno, a parte la piscina. Questo mercato rappresenta circa 3 miliardi e mezzo. Sono prodotti relativamente semplici, però se si valuta quello che c'è dietro, si comprende l'interesse di molte aziende nel lavorare in questo comparto. Solo dal nostro punto di vista, noi oggi abbiamo un mercato che è relativamente piccolo, perché è il 2%, un mercato piccolo del 2% sono comunque 70 miliardi di euro. 70 miliardi di euro vuol dire che l'interesse che abbiamo è molto forte. Noi commercializziamo un marco che si chiama Tornoma, questo è relativamente poco importante. Vediamo com'è questo mercato. Ma, i mercati sono caratterizzati dalle curve di vendita. Le curve di vendita è il costumi da bagno oggi, è l'unico grafico che farò vedere io, quindi non preoccupatevi, è il PSM, è il corato, non ci sono... Però è questo. I costumi da bagno per la donna si vendono tra settimana 21 e settimana 32. Si vendono tutti tra fine maggio e fine agosto. Poi, basta. Come i gelati? Sì, però anche i gelati si possono mantenere e conservare anche negli anni. I costumi da bagno, infatti dei colori sbagliati, non ci fanno ben niente, perché il coloro sbagliato, il disegno sbagliato, rimane sul bucone. E questo è il tema. Mi ha anticipato, ma se sei maricioso... Quindi, a livello produttivo, cosa si può fare? Ah, il problema è il tema, perché il 70% della collezione che è fatta sotto sui stampati deve essere fatta per garantire una disponibilità del negozio per chiunque di vendita e allo stesso tempo deve evitare l'extra stock a fine della stagione. Perché questo è una collezione bellissima, ma se puoi a fine dell'anno rimanere sul bucone, io ho la scusa che è stato il pronto tempo, però quando vado a valutare il mio bilancio di fine anno, a molto tempo, ad oggi non mi viene ancora contabilizzato. Quindi, ci sono delle banne di sangue enormi. Questo è il contesto. Quindi, come si affronta dal punto di vista collettivo? C'è l'opzione standard, che è quella che quasi tutti utilizzano e non ne sta fino a un paio d'anni anche noi utilizzavamo. Cos'è che si fa? Si definiscono i modelli e le quantità. A ottobre si fanno delle provisioni. Secondo me, l'anno scorso sono tutti un milione, quest'anno ci sarà solo un milione e cento. I colori valgiando, il verde e il viola, questo disegno che stanno valgiando, questa cosa qua, fondamentalmente sono fatti a occhi. Non c'è nessun monitor di tipo. Sono totalmente fatti. Ma c'era di pistano. E' i fondi del caffè, o di provo. Non c'è niente di scendito. Cosa accade quindi? Si tratta di scendito. Come tutti i budget. Come? Tutti i budget. Sì, esatto. Ma questa è qua di più. Questa è qua di più. Ma poi c'è il large budget. Si, ma quello fa a fine anni. E poi c'è la scusa, c'è il tutto il tempo, il sole, eccetera. Io proprio il mio rischio me lo devo gestire. Come gestisco il rischio? Fondamentalmente in un modo molto semplice. Lo scarico sull'intervento finale. Aumento il prezzo o il margin. Quindi ad oggi, io per gestire la mia rischiosità, dico vabbè, caro mio, mi spiace, ma lei magari è più costruito, perché se il tuo più vende, io non sono un onus. Ora, questo tipo di approccio il filosofo è comunque un po' ci piaceva poco e quindi volevamo cambiare. Non è corretto che il cliente paghi le mie incapacità gestionali di scegliere una proiezione che venda. E quindi abbiamo fatto modificarlo. Per concludere, il modello standard prevede che a dicembre parto dalla produzione, stampo tutti i miei tessuti, li confeziono e ho terminato la mia produzione all'anno. Poi, segnalate la procedenza. Questo è il 3 agosto, vedo quello che è successo. Ora, questo sistema, come vedete, sta in piedi grazie all'unico variabile, che è quello del prezzo. Se vendo di più di quello che avevo prodotto, vuol dire che i miei negozi sono vuoti. Questo va per chiunque. Se viceversa, il lancio generale va male, mi trovo un stop enorme che non l'anno. Questa è la foto. Abbiamo provato a rivedere questo modello. Questo è stato il nostro esercizio. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa che è relativamente semplice da un certo punto di vista. In realtà, dietro, c'è un dubbio. Abbiamo provato a mettere in dubbio qualche certezza. Quando vi ho parlato di costruzione a bagno, il tessuto, nobile per eccellenza, è poliamide. Magari farebbe un po' bene anche su poliamide parleremmo al contrario. Però fondamentalmente è quello. Quando si parla di poliestera, non è così a tutto il tessuto nobile. Cosa accade completamente? Che se Decathlon mette nella propria gamma prodotti di poliestera, sui giornali esce l'articolo a Decathlon direte dei barboni per chi usano poliestera o cosa poliamide. Se lo usa Torce Cabbana su un costumino della scienziaria, il titolo è poliestero nobilitata. Ovviamente, in base a chi fa le cose, c'è la valutazione. Però questo per noi è un problema tantissimo. A livello commerciale non volevamo cambiare. Cioè, poliamide o poliestero per noi non per una grossa. Dire, ammettere, di voler provare a cambiare era una ruota sul mercato che si esponeva a tutta una serie di attacchi commerciali, a parte di concorrenti, a parte di stampa specializzata, a parte di tante persone. E poi, se andiamo al tecnico, l'unico convento tecnico che posso fare, ma le diversità dei tessuti tutti qua dentro le conoscete in meglio di quanto le conoscete. Si possono fare tutti gli svuot che vogliamo, vantaggi, inconvenienti, eccetera, eccetera. Non abbiamo voluto far questo, ma abbiamo voluto valutare solamente un elemento che per noi poterà essere interessante. Che il processo di stampa sul poliestero, come dire, attraverso la sublimazione è quantomeno diverso rispetto a quello che si può fare su poliamide. All'oggi, a me hanno spiegato tante volte, hanno raccontato tante volte che si può sublimare su poliamide, però a centomila anni del fatto non li ho mai visti. Come adesso cosa vanno a fare, però ha la natura a un'ottima di vista. Solo colori chiari. Come? Solo colori chiari. Solo colori chiari, al chiaro di luna, ai giorni pari, e le mettiamo sui libri. Fondamentalmente, quindi, voi che conoscete i processi di stampa, ci sono quelli tradizionali quadro cilindro, c'è la sublimazione, c'è l'ingello. Oggi l'ingello, la fuma, la tecosa industriale, si sta avvicinando molto a quello tradizionale, diciamo che non c'è stampa la sola condizione, la tendiamo, ma non è ancora arrivata. Quindi la scelta che è una maniera da sublimare e stampare più o meno tradizionalmente. Quindi abbiamo scelto di fare questa cosa. Lo studio, il poliestero sublimati. Quindi in questo caso il poliestero è stato un pericolo a un'azione commerciale. Però detto così, dice, vabbè, ok, cosa cambia? Cosa cambia? È il punto di vista la valutazione. una cosa a ottobre usiamo un po' meno fondi di caffè per valutare che godere e quantità fare perché definiamo solamente una quarta parte della gamma. Ci sono delle tendenze di moda che si conoscono non si conoscono tutte. Ci sono i saloni che alcuni di voi probabilmente conoscono magari di moda piuttosto che con le specializzazioni sul mondo del bagno danno delle tendenze che non sono esaustivi. Il lancio a produzione è fatto solamente una quarta parte. Non si produce tutto. Si produce solamente una quarta parte di cinema. Questo vuol dire lasciare flessibilità per dopo. quello che noi facciamo è un test commerciale per il marzo. Vi spererò poi probabilmente come questo avviene. Però fondamentalmente vogliamo capire il proprio marzo che cosa interessa al cliente e cosa piace. In maniera tale da mettere in negozio quello che i clienti giudicano accettare dal punto di vista d'acquisto. E spostiamo la produzione ad aprile a maggio giudizio. Fondamentalmente da pensare che un negozio che con un cliente che non può costruire il 5 agosto probabilmente il tessuto è stato stampato il 20 giugno e confezionato per il 20 giugno. Quindi il tempo di vita di quel prodotto in realtà sono solamente 5 settimane. Cosa che se facciamo le comparazioni con altri prodotti i nostri prodotti non è il caso. Come questa cosa avviene? Abbiamo acquistato le macchinari per sublimarci e siamo messi in fisica. La sublimazione rispetto è un processo di sistema tradizionale è un processo light e leggero una fabbrica una stamperia è qualcosa di pesante e grosso ha dietro dei macchinari delle competenze molto consolidate nel tempo la sublimazione per tutta una serie di motivi è qualcosa di più light e leggero anche noi che siamo ingegneri però in tanto ho che fare con la tecnica si possono utilizzare soprattutto in 100 metri quadrati tutti i file in un reparto i nostri amici stilisti cosa fanno? Giovano con questa macchina fanno tutti i modelli che vogliono fanno i modelli che vogliono i segni creano delle proiezioni ne creano tante tantissime il web meraviglioso internet giudica noi vediamo online questi valori praticamente la rete i clienti che acquistano dicono quali sono i costumi belli di quelli che non hanno acquistato ma che non hanno scritto per colore modello eccetera quindi fondamentalmente ne ha frappare marzo sappiamo quello che possiamo vendere e quello che ci resta forse è meglio che la volontia quindi ci manteniamo la flessibilità che abbiamo visto prima per il proseguo della stagione abbiamo acquistato gli stessi macchinari su scala industriale per la flessibilità in prossimità dove avviene la confezione quindi voi leggete qua una riga può sembrare semplice in realtà fare questa cosa già neanche due anni perché non compro una macchina che stia su un bottone ma come voi sapete tutti non è così comunque una macchina che stia su un bottone non devi sentare l'imparante e comunque non è mai uguale quindi questo tipo di match è stato molto lungo però in finale ci siamo riusciti ci siamo riusciti e quindi fondamentalmente il giorno in cui io valuto ciò che i clienti mi avete che hanno deciso che sarà un successo commerciale al pomeriggio può che la rivoluzione della stampa del tessuto perché? perché lo stesso macchinario su scala industriale proprio comincia la rivoluzione di quel testo stampato che è stato giudicato vincente dal punto di vista commerciale questo tipo di stampato è soppiazzato quindi su già non necessariamente soppiazzato su qualche pure tagliato esattamente però questo cosa vuol dire che il tessuto ci concede una flessibilità che ogni processo attraverso una stampa su quella mide non ci lascia perché la stampa su quella mide proviene la costruzione dei quadri delle incisioni dei test è un processo in avvio un po' più lungo sicuramente un po' più lungo poi dopo magari nel corso del tempo questo tempo di avvio viene riparato ma quando io vi parlavo prodotto a maggio giugno e vende ad agosto questo tempo si conta sui numerori delle ore un giorno è un giorno non è ma sì è un giorno a ottobre un giorno è ma sì a maggio giugno no perché fondamentalmente nel nostro concetto non esiste lo stop lo stop c'è e c'è il negozio se c'è c'è se non c'è non c'è non è che è dietro la resta sinistra quindi la catena produttiva del progionamento deve funzionare bene una volta cale altra no però fondamentalmente questo è la conclusione per me dire è semplicemente mostrare come un tessuto che oggi per spavare un poliester conceda una flessibilità commerciale che altri di cui il tessuto non danno quindi l'obiettivo da un lato era come avete visto è all'uomo di Colombo non è che era la scelta rivelata però dietro in termini organizzativi investimenti economici c'è tutt'altro perché tutto il processo che vi ho spiegato in quattro parole fravede qualcosa di molto più complesso valutare le vendite su internet a partire da un campione di cento acquisti è complicato perché dietro ci sono messi gli algoritmi non banani non è che io faccio una pagina internet se portano disperati lo comprono perché se sbaglio avete visto che mi parla di 70 milioni di acquisto in bagni sangue su memoria non possiamo sbagliare la conclusione di questo di essere ma sono i tempi oggi noi il poliester ci dà una flessibilità commerciale che altri vali di stampa non ci vanno in questo mi piace anche questa relazione di post-pondamenta un esempio veramente inaspettato direi perché la questione del post-pondamenta è una questione molto sentita nell'ambito della catena della tradizione industriale e questo mi sembra un valido esempio anche se ancora c'è una dose di scommesse che dipende dai disegni che poi andrete a fare